Al freddo? Paura? Di me? Di quello che c'è fuori? Aspetti. Vieni. Su, vieni. Ti ho svegliato, mi spiace. Ti sei alzata presto? Non potevo dormire. Chissà perché mi sono trattenuta qui. Devo andare. Ti sai orientare? Non conosco affatto Parigi. Stavi in un albergo? O d'alberdante. Ah, sì. Non è distante. Allora, adesso mi alzo e ti accompagno. Vorresti un caffè? È l'unica cosa buona qui. Abbiamo tempo o no per un caffè? Io ho bisogno che scappi. È probabile. Pensavo che... Che forse tu sai... Che cosa ha fatto... Quando... Quando che? Quando muore qualcuno. Chi è morto? Dì. Hai ucciso un uomo? No. Dimmi com'è morto. Ad un tratto. Ho avuto paura e sono scappata. Senti. Non hai chiamato un medico? Lui odiava i medici. Io volevo telefonare. Rispondimi. Si trova ancora all'albergo? Sì. È informato dell'accaduto all'albergatore? No. Ero troppo spaventata e non l'ho detto a nessuno. Mi vesto e vengo con te. Era tuo marito? No. Aspetta qua. No. 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 No.